Ben ritrovati, 7 candidati alla carica di sindaco nella città di Avellino, l'unico capoluogo di provincia che andrà al voto in Campania a giugno, Rino Genovese non ha bisogno di presentazioni, volto noto della TV, giornalista della RAI, benvenuto ad Otto Channel. Grazie per avermi invitato. Intanto come nasce questa candidatura? È una scelta di vita molto difficile per me, io sto mettendo da parte la mia professione, il mio lavoro adoratissimo che mi ha permesso in questi anni di raccontare la mia terra e la mia provincia, la mia città, ma ci sono dei momenti in cui nasce un senso di responsabilità ad incitarmi più di ogni altra cosa, sono state le parole del Vescovo diversi mesi fa, il suo appello al richiamo allo sveglio di coscienze da troppo tempo sopito nella nostra città. Caro direttore, anche la lettura di tanti dati Istat che danno una visione allarmante per la nostra comunità, Avellino è la città con una delle più alte percentuali di disoccupazione giovanile d'Europa, è la città dove negli ultimi dieci anni sono stati chiusi il 10% di esercizi commerciali, è la città dove la Caritas durante i miei servizi mi ha agghiacciato con le sue riflessioni, casi di indigenza, di disagio sociale, di bullismo, di minori a rischio. È una realtà devastata e devastante rispetto alla quale credo non solo io, ma tutti siamo chiamati ad un grande senso di responsabilità con il nostro impegno personale. Candidato sindaco per il patto civico, perché niente simboli di partito? Questa scelta come la spieghi? Perché il nostro è un impegno di politica civica, che è cosa diversa dal civismo di maniera con il quale molti avversari ci stanno dipingendo. La nostra è una visione di città che abbiamo condiviso nei mesi con la comunità attraverso punti di ascolto, sondaggi che ci hanno permesso di individuare i veri gridi d'allarme. Non abbiamo riunito simboli, non abbiamo riunito partiti, semmai culture politiche, dalla cultura liberal-democratica, quella popolare, moderata, riformista, ma soprattutto abbiamo riunito idee, movimenti, energie culturali vive della nostra città, in un patto, in una stretta di mano virtuale, simbolica con la nostra comunità, per poter tentare di disegnare un futuro diverso e migliore. In questa prima fase della campagna elettorale hai lanciato un messaggio, GATE. Qual è il significato di questa che sembra quasi una formula? GATE è un acronimo ed è il risultato esattamente dei sondaggi che abbiamo fatto in questi mesi con i punti di ascolto nei quartieri. Sono le priorità che la cittadinanza indica all'amministrazione nella sua azione amministrativa. L'acronimo delle prime parole di queste priorità, G come giovani, A come ambiente, T come territorio, E come economia ed occupazione. Siccome in inglese GATE significa cancello, varco, noi abbiamo detto che questo è il cancello che vogliamo aprire, il varco che vogliamo oltrepassare per entrare nell'avellino dei nostri sogni. Oggi la città come ti appare, insomma, dopo i cinque anni di amministrazione festa? È una città molto confusa. Noi entriamo in questa campagna elettorale dopo un trauma evidente che abbiamo vissuto, ma anche con un nostro patto etico. Il patto civico è innanzitutto un patto etico, che è un patto di responsabilità. La pacificazione sociale di cui tanto si parla non può essere uno slogan, deve essere praticata, non predicata, ma sto trovando anche una città elettoralmente molto matura, disinteressata ai tanti argomenti che si sono stati trattati in questi mesi, i simboli, i partiti. È una città con grossi disagi, soprattutto sociali, soprattutto nelle periferie, che vuole risposte chiare a domande chiare ed urgenti. Che tipo di campagna elettorale stai portando avanti? Mi pare di capire che hai evitato ogni polemica o soprattutto stai evitando scontri personalistici? Insomma, hai teso quasi la mano agli avversari per un patto per la città. Io l'ho detto dall'inizio, non spenderò una parola in questa campagna elettorale per la questione giudiziaria. Non è questo il tema della campagna elettorale. La campagna elettorale si deve fare sui problemi delle persone. Io ne sto trovando tantissimi. Ai miei competitor sto chiedendo anche di collaborare per condividere idee per il bene della nostra città. Alla inaugurazione del mio comitato, ad esempio, ho invitato tutti gli avversari, che sono anche amici degli altri schieramenti, a stringere, a siglare un patto tra gentiluomini e gentildonne, c'è anche Laura. Ad esempio, perché chiunque vinca ponga al primo punto del suo impegno programmatico ed amministrativo la riapertura del centro per l'autismo. È una vergogna che sia ancora chiuso. Così come ieri ho sottoscritto il documento Tracce di Lega Ambiente, che è un'associazione che ho seguito sempre, condividendone le idee nei miei anni anche da un punto di vista professionale. A maggior ragione lo faccio oggi. Ci sono dei temi che fanno parte del DNA dell'essere avellinesi, che si riconducono tutti poi in un unico concetto, il voler bene la città. Credo che su parecchi argomenti potremmo collaborare. Ecco, sei sicuramente un personaggio popolare che ha incontrato e sta incontrando tantissimi cittadini. Quali sono le istanze che ti vengono sottoposte con maggiore determinazione? Ci sono alcuni punti che avverto epidermicamente. Credo che in questi anni quello che è mancato è stato proprio un atteggiamento istituzionale, il mancato dialogo vero, non di facciata, con la nostra cittadinanza. Noi da questo punto di vista abbiamo posto come obiettivo prioritario della nostra amministrazione la costituzione, la modifica allo Stato Comunale per la regolamentazione dei comitati di quartiere. Noi vogliamo dialogare ma in modo vivo, umano, non con le app come qualcuno dei miei avversari suggerisce. Vogliamo guardare negli occhi, stringere la mano, ascoltare le voci dei nostri cittadini, ascoltarne i problemi. Lo faremo con i comitati di quartiere ma introdurremo anche l'istituto del referendum popolare. Non c'è bisogno di immaginare una città digitalizzata che è importantissima per quanto riguarda, ad esempio, il cablaggio della nostra città, ipotesi di smart working che sto ipotizzando nell'organizzazione della struttura comunale, ma c'è bisogno di immaginare. Oggi è una città umana, il dialogo, istituzione, cittadino per me è fondamentale. Avellino ha perso negli anni il ruolo di capoluogo di provincia, insomma, come fa ritornare questa città ai vecchi tempi? Questo è uno dei temi più importanti. Se devo fare una critica all'amministrazione Festa e ai programmi che ho letto dei miei competitor, è questa visione ancora troppo municipalizzata della città. Noi dobbiamo avere una visione di territorio, di rete, l'area vasta di cui tanto si parla. È un termine vuoto se non si concretizza. Io parlo di area interprogettuale. Bisogna collaborare con gli organi sovracomunali e immaginare l'Irpinia come un'unica città, la città Avellino. Bisogna fare sistema, sinergia, perché oggi da soli non si va da nessuna parte, non ci si cura, non si guarisce, si progredisce solamente insieme. Qual è l'idea di città del futuro di Rino Genovese? Una città che venga rivoluzionata da un punto di vista urbanistico, una città green, solidale ed ecosostenibile. Una delle più grandi trasformazioni che io immagino per Avellino, che ne trasformerà il volto, è l'abbattimento del Palazzo di Giustizia a Piazza d'Armi. Piazza d'Armi deve tornare ad assumere il suo ruolo di piazza e noi immaginiamo anche di più di parco urbano attrezzato all'interno del centro cittadino con la costruzione dei parcheggi seminterrati e il trasferimento dell'attuale Palazzo di Giustizia in una cittadella giudiziaria che accorpi gli uffici che ormai stanno in un palazzo fatiscente, non più funzionali alle stesse esigenze degli organi giudiziali, accorpi il giudice di pace e semmai se è possibile anche la caserma della Guardia di Finanza. Piazza d'Armi diventerà un'oasi di verde che è collegata poi anche al grandissimo polmone ecosostenibile, un paradiso di biodiversità che noi abbiamo da Villino che si chiama il Parco del Fenestrella e tanti altri parchi della nostra città può dare veramente il senso della città green, ma quando noi parliamo di città green non è tematizzabile, il nostro è un programma cosiddetto aperto, noi abbiamo immaginato un programma che in modo sinergico coinvolga tutte le tematiche della nostra città perché quando si parla di città green non si può immaginare soltanto il settore ambiente, green è anche una mobilità ecosostenibile, per me è fondamentale liberare la città da questa inutile ormai metropolitana leggera, dobbiamo andare verso una forma di mobilità diversa, liberare le nostre strade dimezzate nelle loro corsie da un'opera che sinceramente crea soltanto caos e disagio, il Parco di Piazza d'Armi decongestionerà il traffico nel centro cittadino e creerà quel numero di parcheggi che noi riteniamo sufficienti a rispondere alla carenza di posti auto ormai atavica. Insomma tante idee per chiudere questa nostra intervista all'appello ai cittadini, perché votare genovese ma soprattutto qual è il clima che stai riscontrando in questa campagna elettorale nel contatto diretto con la gente, con il territorio? Ripeto sto trovando un avellino e un elettorato avellinese molto maturo che è lontano dalle disquisizioni sulla questione giudiziaria, sui partiti che chiede risposte concrete, quindi sono molto fiducioso che gli avellinesi sappiano scegliere il candidato sindaco migliore, leggere, studiare, confrontarsi sui programmi migliori e da questo punto di vista io non chiedo un voto contro gli altri, ognuno è libero di esporre le proprie idee, chiedo un voto dopo aver valutato il mio programma, i miei uomini, le mie idee, la mia coalizione e l'idea di sviluppo, il sogno che Rino Genovese e la sua squadra ha per l'avellino del futuro. Bene, staremo a vedere, intanto grazie a Rino Genovese, ricordo candidato sindaco del patto civico ad Avellino e sicuramente avremo altri momenti di confronto nel corso di questa campagna elettorale, intanto la rubrica per oggi si chiude qui, in regia Aldo Fenizia, grazie a quanti ci hanno seguito, arrivederci. Grazie a tutti.